La batteria delle nuove fotocamere mirrorless non dura abbastanza, non è adatta a lavorare e è assolutamente frustrante lavorare in questa maniera. Se anche tu ti sei trovato in una situazione di questo tipo e hai avuto pensieri come questo, sono qui per portarti una parziale soluzione. E no, non sto parlando di un costoso battery grip in cui alloggiare delle altrettanto costose batterie supplementari, ma sto parlando di questo simpaticissimo gizmo. Mi è appena arrivato il Power Adapter PD-E1, che è sostanzialmente un cavo di alimentazione prodotto da Canon. Io l'ho comprato da 2M Photo, specialisti della fotografia, quindi l'ho acquistato per corrispondenza, mi è appena arrivato. Adesso andiamo a fare l'unboxing insieme ed è un unboxing purtroppo reale, nel senso che io non conosco il contenuto di questa scatola, la apro adesso per davvero. Andiamo ad aprirla. Allora, devo dire che è abbastanza inodore, però io sono raffreddato, quindi non è detto. Allora, primo pacchetto, abbiamo la presa da muro, la presa di corrente vera e propria, di quelle ne ho 100, quindi mi interessa molto poco. Qui abbiamo il corpo principale del nostro involucro. Allora, devo dire che è molto voluminoso, è un bestione bello grosso, molto ASMR questo video. Allora, qui abbiamo il nostro trasformatore, quindi PD-E1 adapter, power adapter USB, quindi input 100V, 240V, 50-60Hz, quindi va bene sia in Europa che negli Stati Uniti. Qui abbiamo la nostra presa che andrà a entrare nel nostro corpo macchina. Questa è una presa che è adatta a, credo, tutte le fotocamere di tipo R, quindi la Canon EOS R, la R7, la R3, la R6 e la R5. Dovrebbe essere adatta a tutte quante. C'è una particolarità, ovvero questo cavo è in grado di ricaricare la batteria senza toglierla dal corpo macchina. Quindi nel momento in cui io vado ad attaccare la mia fotocamera a questo cavetto e attacco alla corrente, io sono in grado di ricaricare la mia batteria lasciando la batteria all'interno del corpo macchina. Quindi questo può essere molto molto comodo, perché in questo modo siamo in grado di, innanzitutto, di non doverci più portare dietro il caricabatterie. Perché possiamo ricaricare la nostra batteria senza toglierla dal corpo macchina. Ma, e questo è da verificare perché non l'ho ancora testato, ovviamente, visto che l'ho appena aperto. Ma la cosa ancora più interessante, che è il vero motivo per cui l'ho preso, perché la questione del caricabatteria mi interessa relativamente, il vero motivo per cui ho fatto questo acquisto è perché, a quanto pare, è possibile collegare la nostra fotocamera o videocamera mirrorless direttamente alla corrente. Ora, per quanto mi riguarda, questo è un game changer decisivo, perché se fino a ora mi sono trovato a operare con delle camere reflex, con cui non ho mai avuto problemi di durata di batteria, e delle camere invece mirrorless che mi danno problemi di batteria, perché comunque durano di meno, ci fai cose diverse, usi il display molto di più, fai video molto di più, però durano di meno. Quindi è pacifico che durano di meno come vita della batteria. Un device di questo tipo, che mi permette di andare ad attaccare la mia fotocamera o videocamera direttamente alla corrente, mi cambia veramente la vita, perché a questo punto io posso attaccarla alla corrente e quindi bypassare la batteria. Posso mantenerla accesa per un periodo di tempo superiore, perché è attaccata alla corrente e quindi indipendente dalla mia batteria. Inoltre, e questo mi baso sulle specifiche che ho letto online e quindi non le ho ancora verificate, inoltre ogni volta che la mia camera va in stand-by ricomincia la ricarica della batteria. Quindi se io la utilizzo attaccata alla corrente con la batteria inserita, mentre la sto usando utilizzo il cavo corrente. Nel momento in cui va in stand-by o la spengo, riprende a ricaricare la batteria. Quindi un meccanismo molto intelligente, che secondo me era abbastanza obbligatorio. Non la vedo proprio come una genialata quanto come un atto dovuto da parte di Canon e spero e penso anche da parte di altri produttori. Non mi sono informato perché ho solo Canon, utilizzo Canon da diversi anni, quindi magari esiste già per Sony, magari esiste già per Fuji, per Nikon, non lo so. Diciamo che non la considero tanto una genialata quanto appunto un atto dovuto, perché lo sappiamo tutti che queste batterie durano di meno e quindi mi sembra assolutamente opportuno che ci sia un supporto in più da questo punto di vista per garantirci una durata più lunga, una durata delle nostre riprese superiore. Allora, qui abbiamo un libretto di istruzioni in giapponese. Sì, allora, c'è in russo. Istruzioni, ecco qui, c'è l'italiano, ci sarà anche l'inglese, io di solito le leggo in inglese perché so tutti i termini in inglese, però, ok, può essere utilizzato anche in altri paesi con l'alimentazione elettrica compatibile, quindi sì, come vi dicevo, funziona sia in Italia, in Europa che negli Stati Uniti. Ok, devo dire che questo qui non è un libretto di istruzioni, ma è soltanto il libretto con le avvertenze speciali, quindi non masticare il cavo e non utilizzarlo mentre siete nella vasca da bagno, è tutto lì. Le istruzioni vere e proprie, a quanto pare, non ci sono. Quindi andrò a vedere se ci sono delle istruzioni online, se c'è un pdf online o qualcosa, perché in questo caso due specifiche tecniche su questo simpatico aggeggio le vorrei proprio leggere, perché questo qui sono sicuro di come si collega, perché è facile, si collega alla nostra fotocamera. Vorrei capire un attimino com'è che funziona lo switch tra ricarica e alimentazione tramite cavo, perché una cosa molto importante che mi interessa particolarmente è che cosa succede se io sto utilizzando la mia fotocamera con la corrente e va via la corrente, per esempio. Mi interessa molto sapere se entra in funzione la batteria direttamente oppure se c'è un attimo di vuoto, così come mi interessa anche il contrario. Mi interessa sapere se io sto utilizzando la mia fotocamera in modalità batteria e la mia batteria sta per finire e mentre sono in ripresa collego la corrente, che cosa succede? Si deve fermare la ripresa oppure posso continuarla? Questa è una cosa che sperimenterò sicuramente di persona, ma non mi dispiacerebbe leggere se qualcuno l'ha già scoperta, se qualcuno l'ha già scritta da qualche parte. A questo proposito, se ne sapete di più, io vi invito a farmelo sapere in un commento. Non servirà soltanto a me, ma servirà anche a tutti quelli che andranno a leggere i commenti in cerca di questo tipo di informazione. Io vi dico la verità, non credo che farò un video di aggiornamento su questo articolo, perché è un gadget tutto sommato piccolo-minore, quindi non credo che andrò a fare un aggiornamento semplicemente per dirvi ho scoperto che funziona. Ci tenevo a fare l'unboxing perché è una cosa di cui sono molto soddisfatto e molto gasato perché questo allunga di tantissimo, potenzialmente allunga all'infinito la vita della mia batteria e quindi io sono in grado di far durare le mie riprese tanto quanto voglio. Ora, questo non è del tutto vero perché come ho potuto sperimentare, Canon EOS R7 che sto utilizzando in questo momento ha un limite per cui si surriscalda a un certo punto quindi non è vero che la si può utilizzare in eterno. Vi lascio in card il mio video in cui ho fatto l'unboxing di R7 e anche quello della spiegazione e dell'analisi di tutti i pulsanti sul corpo macchina. Vi lascio entrambi in card, andateveli a recuperare. Ora, questa è una fotocamera e videocamera, per me solo videocamera eccezionale, con tutti i difetti delle mirrorless, quindi i difetti fondamentalmente sono che si surriscalda più in fretta perché ha il monitor che sta perennemente acceso e la batteria che dura di meno per lo stesso motivo. Ora però, soprattutto in una stagione fresca, ovviamente in estate sotto il sole no, ma in una stagione fresca come l'autunno e l'inverno, un device come questo mi allunga tantissimo la durata della mia ripresa potenziale perché la videocamera non tenderà a riscaldarsi immediatamente. Questa, devo dire, è una cosa che è molto soggetta anche ai fattori ambientali, quindi se fa molto caldo, se siamo sotto il sole non vi dico, ma se fa molto caldo la videocamera si surriscalderà molto molto in fretta. Ma se siamo in un contesto fresco, se siamo tra i 20 e i 17 gradi, abbiamo un pochettino più di agio, comincerà a surriscaldarsi ben più tardi, per cui se siamo in grado di connetterla alla corrente, possiamo prolungare di parecchio la nostra ripresa. Potremmo arrivare, non vorrei esagerare, ma secondo me potremmo arrivare a un'ora di ripresa continua prima che si surriscaldi. Ovviamente questo dipende anche dalla memory card che utilizziamo. Se fate come me e riprendete in 4K Fine con il profilo colore Log, ovviamente sarà un file bello cicciotto e quindi la memory card si riempirà molto in fretta. Quindi forse non ci arrivate a un'ora di girato, ma per colpa della memory card e non per colpa della batteria. A questo punto io vi chiedo, che fotocamera o videocamera state utilizzando in questo periodo? Ho sentito diverse persone che mi hanno detto che hanno fatto il passaggio a R7 proprio e anche per colpa mia, quindi sono molto contento di questa cosa. Fatemi sapere che cosa utilizzate per scattare, fatemi sapere se utilizzate qualcosa che reputate sia più performante di R7. Sono curioso di confrontare i pareri perché io mi sto trovando molto bene su questa videocamera, però devo dire che stanno uscendo delle camere veramente molto molto belle. Sto pensando per esempio a Fuji. Ci sono diversi modelli che mi fanno veramente tanta gola. In questo momento non ho intenzione di comprare niente, però mi piace sempre aprire un confronto su questo tema perché ovviamente ogni casa produttrice ha i suoi pro e sicuramente anche i suoi contro e purtroppo uno non li saprà mai finché non la utilizzi. E siccome io ovviamente non ho in casa tutte le camere di questo universo, adesso posso parlarvi solamente di quelle che ho utilizzato per piacere o per lavoro. A questo proposito vi segnalo anche che molto probabilmente nei prossimi giorni avrò per le mani una Canon EOS R6, quindi potrebbe esserci qualche sviluppo anche in tale senso. Vi invito a questo punto a iscrivervi e attivare la campanella così non andate a perdervi quel contenuto, perché sono sicuro che una recensione su R6 su questo canale la volete vedere anche voi. A questo punto io e PDI One vi salutiamo e vi diamo appuntamento al prossimo video. A questo punto io e PDI One vi salutiamo.